awc ingegner storia di eccellenza e innovazione l'orologio ingegner presentato nel 1955 segna un'innovazione significativa con il suo movimento a carica automatica bidirezionale sviluppato da albert pellaton direttore tecnico di awc questo sistema con il suo rotore che oscilla in entrambe le direzioni offre un'efficienza senza precedenti rispetto ai meccanismi unidirezionali tradizionali agli inizi degli anni 70 il designer di orologi indipendente gerald genta trae ispirazione da un casco da sommozzatore per creare un linguaggio estetico moderno e dalle connotazioni tecniche rivoluzionando il mondo del design degli orologi viti e fori precedentemente funzionali emergono sulla lunetta diventando elementi centrali per awc schaffhausen gerald genta da vita leggendario ingegner sl noto come referenza 1832 questo orologio introdotto nel 1976 presenta un design distintivo che incarna i valori maschili di robustezza sportività e tecnologia avanzata questi elementi di design e valori rimangono caratteristiche fondamentali degli orologi ingegner di awc ancora oggi la scelta di materiali ad alto profilo tecnico come l'alluminuro di titanio il carbonio la ceramica e il titanio trae ispirazione dalla formula 1 i modelli classici con cassa in acciaio caratterizzati dai fori distintivi sulla lunetta richiamano il design dell'ingegner sl del 1976 con l'eccezionale ingegner turbion forza costante awc rafforza ulteriormente la sua posizione di vertice tra i marchi di alta orologeria il meccanismo brevettato a forza costante integrato nel turbion mantiene costante l'ampiezza delle oscillazioni del bilanciere garantendo una straordinaria precisione di marcia per almeno 48 ore l'indicazione delle fasi lunari raffigura la superficie realistica della luna evidenziando perfino i piccoli crateri il conto alla rovescia mostra i giorni rimanenti fino alla prossima luna piena mentre l'indicazione della riserva di carica fornisce informazioni sulla carica residua gli ingegner rappresentano l'unione perfetta tra innovazione funzionalità e raffinatezza artigianale offrendo agli appassionati di orologi un'esperienza senza pari nell'arte dell'orologeria